Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit, più 1,95%. Le più forti vendite si manifestano su Uncxie, che prosegue le contrattazioni a meno 1,45% Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a più 133 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,99% Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sulla produzione industriale in Italia, pari a meno 0,6%, e il dato sui prezzi al consumo in Germania, pari a 5,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della fiducia consumatori dell'Università del Michigan e dei prezzi al consumo Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 16.223,5 punti